Ok, fa caldo, fa caldo, bisogna dirlo. Allora, adesso è arrivato il momento di presentarci e vorrei presentare questo fantastico gruppo di amici e di bravissimi musicisti che mi accompagnano. Il sottoscritto, ve lo sto a riprendere per sicurezza, Moreno Mataresi, voce. Alla chitaria rettica abbiamo Andrea Porzella. Alla basso, Francesco Frenzi. Tastchiere, Tommaso Stefani. Batteria, Frank, Gianfranco Buono. Noi siamo Moreno in the fourth standard. Alla città! Alla città! A presto! Alla città! Alla città! Ringraziamo le tegole per averci vado a questa opportunità di esibirci dal vivo. Grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.